C'è chi al termine della vendita non emette alcun documento fiscale, chi invece trasporta e scarica acqua con cisterne non conformi alla normativa vigente, prive di qualsiasi autorizzazione da parte degli organi competenti e di certificazione sanitaria. Molti addirittura non sono nemmeno titolari di alcuna partita IVA. La crisi idrica che da mesi sta mettendo in ginocchio l'isola ha amplificato il sottobosco dell'abusivismo degli autobottisti, di chi cioè trasporta e vende acqua potabile ai cittadini. E così i finanzieri del comando provinciale di Caltanissetta hanno avviato un serrato piano di interventi finalizzato a monitorare proprio le dinamiche legate al trasporto e alla rivendita di acqua potabile, per verificare la presenza di eventuali irregolarità nel circuito di distribuzione sotto il profilo penale, amministrativo, tributario e sanitario. E che qualcosa di irregolare ci fosse, considerate le decine di segnalazioni di cittadini che si sono visti spesso consegnare acqua a prezzi esorbitanti e senza alcuna ricevuta fiscale, è emerso sin dalle prime indagini, che hanno consentito di far emergere fenomeni di abusivismo commerciale e in alcune circostanze la totale assenza delle autorizzazioni amministrative di legge vigenti e anche di carattere sanitario. In particolare, dall'inizio del mese di agosto, le pattuglie delle Fiamme Gialle hanno effettuato decine di controlli in provincia, dai quali sono emerse decine di violazioni di carattere fiscale, amministrativo e igienico sanitario. Nello specifico, alcuni trasportatori sono stati sanzionati per la mancata emissione di documento fiscale al termine della vendita, mentre altri sono stati sorpresi a scaricare acqua trasportata con cisterne non conformi alla normativa vigente, privi di qualsiasi autorizzazione da parte degli organi competenti e di certificazione sanitaria. A seguito di ulteriori accertamenti è emerso anche che i soggetti non erano titolari di alcuna partita IVA e nei loro confronti sono state elevate sanzioni amministrative per migliaia di euro, oltre all'apertura d'ufficio della partita IVA relativa all'attività esercitata. Ci sono però anche gli operatori onesti, la maggior parte per fortuna, che agiscono regolarmente, con regolare autorizzazione dell'ente pubblico deputato alla gestione delle risorse idriche e in aderenza con le normative che regolano lo specifico settore. I controlli della Guardia di Finanza andranno avanti anche nelle prossime settimane.